E' stata una partita molto vibrata, secondo me non c'era magari in campo la percezione di chi potesse tra le due squadre vincere, loro magari ci hanno schiacciato un po' di più in alcuni momenti, noi siamo stati bravi a volte a ripartire anche se non siamo riusciti negli ultimi metri magari a concludere, altre volte soprattutto nel primo tempo eravamo riusciti anche magari partendo da dietro ad arrivare fino a quasi in fondo e creargli dei pericoli, era una partita che stava andando su un equilibrio che sembrava forse potesse portare anche a un pari, quindi un risultato positivo e purtroppo poi loro hanno fatto questa bella azione con il cross e la sponda della latta e Firenze che è stato bravo e lesto ad arrivare per prima a fare subito gol, dispiace però si va avanti. Alla fine non si è vista tutta questa differenza tra le due squadre? Secondo me no, loro magari possono avere delle individualità importanti, cosa che secondo me abbiamo anche noi, anche se nessuno lo dice che sembra che siamo molto più scarsi di loro e penso soprattutto che a livello di collettivo noi quando esprimiamo e riusciamo a esprimere il gioco che magari ci chiede anche il mister diventiamo una squadra molto molto pericolosa. Poi ovviamente in partite come queste ci sono anche gli avversari, non sempre riesci a imporre il tuo gioco e a fare quello che provi durante la settimana e quindi magari succede che in partite come queste puoi anche perdere, noi ovviamente non volevamo ma io tutta questa differenza in campo non l'ho vista. Ora non c'è neanche il tempo di pensare a questa partita che si ritrova subito per quel tuo dia a Cesena. Sì, ora torniamo a Perugia, domani facciamo allenamento, martedì riprepariamo la partita e ripartiamo. Nessuno qui si deve abbattere, nessuno qui deve smettere di crederci perché se noi vinciamo questi due recuperi che non saranno solamente partite facili, risiamo di nuovo a una portata da loro e quindi dobbiamo mettere pressione e cercare di farli sbagliare perché oggi esultavano giustamente, ma si deve esultare il 25 aprile. Termina così il nostro momento di informazione, chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.